le immancabili perle del Mulan. Il CT della nazionale belga Ventura Naut in un'intervista ha dichiarato di avere intenzione di affidarsi per i mondiali australiani di quest'anno ad una leadership condivisa tra i Venepo e le Banart, dicendo anche che però a gennaio dovevano incontrarsi per un caffè pacificatore dopo le polemiche sul mondiale dello scorso anno e che purtroppo questo incontro non c'è ancora stato. In pratica le possibilità di vittoria per il Belgio ai mondiali si basano sul fatto che i Venepo e le Banart trovano il tempo per un caffè, ognuno ha le sue tattiche. Nella serie di presentazioni creative delle squadre del giro, la Ineos non ha voluto essere da meno, trasformando i corridori in statue di marmo. Il sito belga Etnia Esblad ha ironizzato, dicendo che più che a statue somigliano a degli zombie, augurandosi che i granatieri non finiscano davvero per diventare zombie dopo le tre settimane di gara. Una gufata non da poco. Un fattore fondamentale che impedisce al corridore della Israel Michael Woods di fare classifica anche nelle corse di una settimana è il suo terribile rapporto con le cronometri. Ho fatto una piccola ricerca e dall'inizio della sua carriera il canadese, nelle corse contro il tempo, ha perso un totale di 84 minuti e 9 secondi. Siamo vicini al novantesimo e al fischio finale dell'arbitro. A costo di stancarvi, sono costretto a concludere parlando ancora una volta di Pinot, perché questa mi è stata suggerita da un paio di nostri abbonati. Vi ricorderete, spero, dell'intervista in cui dichiarava che se al 100% può abbattere chiunque. Allora, considerate le prestazioni buone, ma non ancora al top assoluto a Romandia, lo possiamo collocare approssimativamente ad un livello di forma del 97%. Ci siamo quasi.